Buongiorno cari ascoltatori di Radio Maria. Il libro di Padre Livio che vi presenteremo oggi si intitola Maria Dolce Madre, edito da Sugarco. C'è qualcuno di più importante della madre nella vita di una persona? Colè che ci ha concepito e portato nel grembo, che ci ha nutrito ed educato? Colè che non ci ha mai perso d'occhio, trepidando per ogni nostro passo? È la figura decisiva e indimenticabile della nostra esistenza. Pochi, però, sanno di aver avuto in dono dal cielo una madre infinitamente più grande, rivestita di divina bellezza, il cui cuore traboccante di amore si prende cura di ognuno di noi. Quando hai la grazia di scoprire il volto dolce e soave di Maria, la tua vita cambia radicalmente. Non sei più solo nell'aspro cammino e il tuo cuore di bimbo trova la sicurezza e la pace. La madre di Dio è nello stesso tempo la madre della Chiesa e dell'intera umanità. La comprensione di questo aspetto della maternità di Maria, molto sentita nel nostro tempo, è culminata nella solenne proclamazione della Madonna come Madri della Chiesa, da parte del grande Papa Paolo VI, a conclusione del Concilio Vaticano II. Questa definizione mariana necessita di essere compresa nella sua profondità e nelle sue implicazioni per la vita spirituale del cristiano. Padre Livio ci spiega che se la Madonna è Madri della Chiesa, significa che ogni cristiano sul piano della grazia è suo figlio. L'essere Madre è dunque l'essenza di Maria. La Madre è la fonte della vita e possiamo affermare che Maria, in intima unione con lo Spirito Santo, svolge questo compito sul piano della comunicazione della vita divina. Da lei siamo concepiti come figli di Dio. Da lei siamo generati come membri della Chiesa. Da lei siamo nutriti, educati, protetti e guidati fino al raggiungimento della meta della Beatitudine Eterna. Padre Livio afferma che la Madonna ci ascolta volentieri, ma è giunto il momento nel quale noi, a nostra volta, dobbiamo dimostrare di essere Suoi figli. Potrete richiedere il libro di Padre Livio dal titolo Maria Dolce Madre contattandoci all'Ufficio Informazioni allo 031 610 600 scrivendo un'email a info.ita.chiocciolaradiomaria.org oppure ordinandolo direttamente dal nostro catalogo online sul sito radiomaria.it A tutti voi, cari ascoltatori, un augurio di una buona lettura! Grazie! 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 Grazie!